Tutto a posto? Respirare la salsedine del mare, mentre veleggiando si arriva con le proprie forze in pieno adriatico. Si è tenuto ieri l'ultimo pende di vela, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico Regionale e dall'INAILMARCHE. Un'edizione di successo, che aveva l'obiettivo di avvicinare allo sport chi risiede in regione ed è rimasto coinvolto in passato in incidenti sul lavoro. Soddisfatto dalla giornata, il presidente del CIP Luca Savoiardi. Tramite l'attività sportiva trovano delle motivazioni per affrontare una rinascita in una nuova epoca della loro vita stessa. Dieci partecipanti all'evento, che si sono divisi tra mattina e pomeriggio e sono rimasti in mare per un'ora e mezza, hanno condotto in autonomia le ANS 303 Wide delle imbarcazioni Biposto, maneggevoli con il solo uso delle braccia. I protagonisti della giornata sono stati assistiti dagli istruttori della Federazione Italiana Vela e sono partiti dalla base nautica dell'Associazione Dilettantistica Locale Liberi nel Vento, che ha messo a disposizione tutte le barche. Sono stata molto entusiasta da subito, secondo me si dovrebbero fare ancora di più iniziative. Invito anche gli assistiti in AIL a provare. Ci dà questo senso di normalità che magari non abbiamo più tutti i giorni. Un'associazione che include già 24 atleti che si dedicano alla vela, di cui 5 infortunati sul lavoro, che dopo i precedenti Open Day hanno reso questo sport come un'attività fissa. Se sono rosse e fioriranno, dice il proverbio. Intanto, la giornata è stata un successo e ha seguito gli eventi di scena nel 2021 e 2023. Speriamo poi si appassionino e vogliano provare poi il corso di orientamento e di avviamento. Abbiamo avuto Roberto Catalini, un infortunato INAIL, che ha conosciuto questo sport, ha fatto il corso di vela ed ora è insieme a noi liberi nel vento in mezzo al mare. La particolarità delle barche utilizzate è che annulla la differenza fra normodotati e lavoratori disabili. La differenza diventa normalità.